Raddoppiano la seconda chance, ancora Borrelli al quinto centro nelle ultime quattro partite, questa volta con il piattone dall'interno dell'aria al minuto 41, su bella discesa da sinistra di Ghebre, Abile a vincere un contrasto con un avversario in precedenza. Nella ripresa non c'è contesa, il Monopoli gestisce e fa di nuovo cento.